we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video è troppo divertente più che altro non non perdi neanche un secondo di fight ma prendi te lo vuoi mettere in testa che non sai giocare non sei capace adesso io morirò dal bot vediamo quanto sei forte ma ti sei rende ti stai rendendo conto che sei ridicolo sì ti stai rendendo conto che sei ridicolo io mi auguro di sì tu lo fai snichi snichi sei una no 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 Sei capace anche a sparare o non sei capace? Sottolineatura Kinks Dai 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 Buongiorno a tutti a presto Grazie a tutti Ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti